Musica Cari amici della Tenda TV, ben trovati Vittorio Veneto sotto l'albero Siamo ancora qui, siamo a bordo pista, vicino alla pista di ghiaccio, la pista di pattinaggio in Piazza del Popolo Sta per volgere al termine il primo weekend di Vittorio Veneto sotto l'albero Sono qui in compagnia di Michele Tofoli dell'associazione Sulla Testa Vittorio Veneto Prima di parlare di questo bel weekend dell'Immacolata che è stato veramente molto effervescente qui a Vittorio Veneto Io farei un passo indietro, come è iniziato tutto? È iniziato quasi un anno fa, è iniziato a gennaio con delle prime riunioni che abbiamo fatto con i commercianti di Vittorio Veneto Dai quali avevo percepito che c'era stato un malessere abbastanza diffuso per il Natale del 2017 Che diciamo a livello di manifestazioni eravamo ridotti molto male Poi purtroppo avevamo anche una città qui vicino che invece aveva investito moltissimo E allora la cosa che io ho pensato è quella di cercare di rimetterci tutti insieme Creare una bella squadra, la quale siamo diventati E portare un'idea diversa di Vittorio Veneto Una città che vuole crescere, io l'ho denominata Vittorio Veneto città in movimento Proprio per dare il senso di una città che vuole andare avanti e che non vuole fermarsi Quindi quasi un anno di lavoro, possiamo dire un team composito Ci sono i commercianti, ci sono gli artigiani, ci sono le associazioni Ci sono tantissime realtà che hanno risposto con entusiasmo Vi aspettavate questo entusiasmo? Beh l'entusiasmo onestamente c'era nell'aria Non mi aspettavo, devo essere sincero, questa è stata una sorpresa splendida Che riuscissimo tutti insieme a dialogare e andare insieme, a fare una bella squadra E quindi il percorso come ho scritto anche sui social è tracciato La via è tracciata e non la smariremo più Perché il successo è dato anche da questo Da quando ci sono tante idee, tante persone Quindi tante persone portano sicuramente un patrimonio importante per la città Tanti, lo ricordiamo, sono gli organizzatori Abbiamo detto c'è l'associazione sulla testa Vittorio Veneto Abbiamo Ascom Vittorio Veneto, quindi i commercianti, gli esercenti che fanno la loro parte Abbiamo Confartigianato, abbiamo il comune di Vittorio Veneto Che anche lui ha deciso di contribuire e sostenere questa iniziativa Abbiamo la Proloco di Vittorio Veneto Allora, Vittorio Veneto sotto l'albero Possiamo già tracciare un bilancio di questo primo weekend È stato il weekend di lancio, il weekend di apertura È stata aperta la pista di patinaggio Sono state aperte le casette che, insomma, erano anche queste una grande novità E sono state prese d'assalto Direi una scommessa vinta Noi abbiamo voluto partire con un profilo basso, devo essere sincero Perché un po' di timore per capire cosa sarebbe successo ce l'avevamo E devo dire che siamo stati sorpresi in maniera molto favorevole La gente ha risposto in maniera calorosa Ricevo costantemente messaggini oppure gente che viene a trovarmi Dice bravi, siete stati bravi, finalmente a Vittorio Veneto si è data una mossa E quindi adesso vedremo di farla crescere un po' alla volta Non vogliamo strafare Vogliamo partire con i piedi per terra Vogliamo fare delle cose che siano sostenibili Che piacciono alla gente Di fatti siamo partiti con una cosa più popolare che c'era Una pista di ghiaccio che è andata oltre ogni aspettativa Me lo diceva anche il gestore Mi ha già detto guarda il prossimo anno la facciamo più grande Quindi questo vuol dire tutto Adesso ci sta concludendo il primo trofeo Trudi per i bambini Andremo a premiarli Anche qui c'è stata una partecipazione al di sopra di quello che ci aspettavamo Quindi siamo veramente felici Allora l'entusiasmo anche alle nostre spalle in questo momento è palpabile Perché veramente la pista è stata presa d'assalto Lo ricordiamo La pista tra l'altro quando sarà aperta e fino a quando sarà aperta? Beh la pista sarà aperta adesso Più ci avviciniamo alle vacanze di Natale sarà sempre più aperta Perché ovviamente i fruituri principali sono i ragazzi E quindi la terremo aperta tutte le mattine e anche i pomeriggi fino alla sera Fino a che ci sarà gente E ovviamente poi ci saranno le casette in cui potete ristorarvi potete bere qualcosa di caldo anche Potrete anche mangiare qualcosa perché si può anche mangiare Quindi l'invito a tutti i nostri telespettatori a chi ci sta guardando anche sui social Li abbiamo menzionati anche prima è di uscire dalle proprie case e venire in piazza Qui in piazza del popolo in centro Vittorio Veneto ma anche a Ceneda anche a Serravalle perché molteplici sono le iniziative Sì devo dire per non dimenticare nessuno che in questi due giorni abbiamo avuto anche il mercatino a Ceneda Un mercatino fatto molto bene devo dire molto curato che ha portato gente anche E poi non dimentichiamo Serravalle con il suo bel albero e con lanterne Quindi la città diciamo si sta presentando in tutta la sua molteplicità Abbiamo cercato di dare continuità alla città quindi non vogliamo dire tutto in centro È ovvio che il centro città si chiama centro città per qualcosa Cioè a me dispiace di vedere qualcuno che dice a Ceneda siamo stati abbandonati Non è vero niente che sono stati abbandonati anzi se guadiamo rispetto all'anno scorso dovrebbero essere felici Io spero che il prossimo anno potremo fare ancora di più Si può fare ancora di più si può fare ancora meglio però noi intanto ci godiamo questa bella atmosfera natalizia Continueremo con le nostre telecamere a documentare Vittorio Veneto sotto l'albero In bocca al lupo anche per i prossimi weekend, per le prossime settimane Perché la strada è ancora lunga, il lavoro da fare c'è ancora Sappiamo che tante sono le persone anche che effettivamente lavorano anche al freddo per rendere possibile tutto questo A loro va il nostro ringraziamento e l'invito da fare ai vittoriesi Vittoriesi uscite dalle case, fortunatamente anche il clima è un po' favorevole Quindi uscite, venite, farvi coinvolgere dall'entusiasmo che già c'è È un ringraziamento alla tenda TV innanzitutto che è sempre presente e fa un ottimo servizio per la città Io l'ho sempre detto e questo è un patrimonio da conservare perché è un aiuto Mi permetto di ringraziare anche gli amici di Prealpi Soccorso che oggi sono qui presenti A titolo gratuito devo dire, quindi anche questo fa onore Cioè tutti quanti vogliono contribuire e dare qualcosa alla città Il bello è proprio questo Il bello è proprio questo, rimanete con noi e soprattutto venite qui a godervi questa bella atmosfera natalizia qui in centro a Vittorio Veneto Il bello è proprio questo